A cosa serve CALM, la calcolatrice che non conta nulla? A ricordarti che non hai più bisogno di calcoli complessi. Da oggi c'è Enel One, la nuova offerta di Enel Energia, con un costo mensile fisso, comprensivo anche di IVA e imposte, in base al piano scelto, con una monetizzazione annuale. Con Enel One scegli il piano più adatto alle tue esigenze. Scopri l'offerta su Enel.it